Govan Italia partecipa a Nova Invigneto fin dalla prima edizione con grande soddisfazione e anche quest'anno siamo qui a Spresiano. Govan Italia presenta la sua linea di difesa per il vigneto che prevede tante soluzioni sia per agricoltura integrata che per difesa biologica, alcune soluzioni di riferimento come la Zoxamide che è la nostra sostanza attiva per il controllo della peronospora disponibile in vari formulati come l'Ectis Trio e Zoxium che è la soluzione a base di Zoxamide pura che si può miscelare con altri prodotti. Quest'anno la novità di questa sostanza attiva è rappresentata da Reboot che è la miscela con il Cimoxanil. Altra soluzione di riferimento per noi è il DOMARC per il controllo dell'oidio, l'antioidico di seconda generazione che ha un profilo ecotosicologico molto positivo e in questa occasione abbiamo una grossa novità anche per quanto riguarda la nostra linea di biopreparati che negli ultimi anni abbiamo sviluppato in maniera importante. Gli anni scorsi abbiamo introdotto Poliversum che è l'antibotritico a base di un microorganismo con una triplice modalità d'azione. Quest'anno la grossa novità come dicevo è rappresentata da Ibisco che è un antioidico che era già registrato su Coltura Orticole e quest'anno proprio da qualche mese ha ottenuto l'autorizzazione anche per l'impiego su vite.